Come hai perso la tua virginità? Storia 1. Sono diventato un uomo quando, durante una pausa pranzo al liceo, la sua casa era a due minuti a piedi dai cancelli. Siamo scappati, ci siamo fermati a metà strada per guardare fuori dalla finestra e assicurarci che sua madre non fosse tornata dal lavoro, perché pensava di aver sentito una macchina arrivare nell'entrata. Un letto singolo, in una stanza che condivideva con due fratelli. Stranamente non era poi così terribile. Ah, che giovane amore. Storia 2. A 17 anni, un ragazzo che pensavo fosse carino ha organizzato una piccola festa mentre i suoi genitori erano fuori dal paese. Eravamo solo in sei. Dopo un paio d'ore passate nel cortile, ho chiesto di visitare tutta la casa, finendo casualmente nella sua camera. Ho notato che aveva una chitarra e gli ho chiesto di suonarmi una canzone. Ha suonato e cantato Light on Lion Man dei Moonford and Son, che era molto popolare all'epoca. Mi sono resa conto che era completamente stonato, ma mi sono sentita lusingata comunque. Ci siamo baciati e ci siamo divertiti, naturalmente. Siamo stati insieme per un paio d'anni. Poi abbiamo rotto quando mi sono trasferita in un altro stato. Sei anni dopo ci siamo ritrovati e abbiamo avuto altri tre anni insieme. Lui continua a cantare fuori tono e non glielo dirò mai perché amo la sua voce e la gioia che il canto gli porta. Non importa cosa pensino gli altri, io lo amo così com'è. Storia 3 Una ragazza ha catturato la mia attenzione durante un pallo al college. Avevo parlato con lei una volta e le avevo fatto un complimento sulla sua maglietta di Zelda. Abbiamo parlato per tutta la serata e poi l'ho invitata a casa mia per mostrarle Brief of the Wild, che era appena uscito. Abbiamo giocato fino alle 5 del mattino. Mi sono pentito di non aver fatto il primo passo e l'ho invitata di nuovo per giocare a Zelda la sera successiva. Abbiamo passato la notte svegli facendo qualcosa di diverso. Storia 4 Ho perso la testa per il mio attuale ragazzo due anni fa. Ci stavamo frequentando da sei mesi e abbiamo deciso di fare un'escursione per il mio compleanno, alle mie sorgenti termali preferite, all'interno di uno Slot Canyon. Era buio quando siamo arrivati alle sorgenti termali e non c'era nessun altro. Ci siamo divertiti metà dentro e metà fuori dalla sorgente termale. È stata un'esperienza davvero fantastica. Mentre stavamo tornando indietro ha iniziato a piovere e abbiamo dovuto correre per tornare indietro da questa escursione di 3 miglia attraverso uno Slot Canyon. Di solito ci vogliono circa 3 ore per navigare, tra arrampicate su rocce e terreni pericolosi, anche quando è asciutto. Siamo riusciti a uscirne in circa un'ora e mezza, correndo perché temevamo l'allagamento, che può accadere rapidamente. Per fortuna siamo usciti in lesi. La prossima volta controlleremo il meteo. È stata una delle mie esperienze più emozionanti che abbia mai vissuto e sono molto fortunata d'aver passato un bellissimo momento. Storie 5. Ero in una stanza del dormitorio del campus dell'Università di Pittsburgh. Avevo 18 anni, lui ne aveva 22, e mi impressionava con la sua conoscenza del punk rock e della cultura nerd. Mi citava testualmente la scenetta di Dead All Wives, Dungeons & Dragons, e parlava di essere un ragazzo irlandese, paffuto dalla pelle chiara, lentigeni e capelli rossi di Philadelphia. Ero una partecipante consensiente e solo desiderosa di finire tutto quando. Abbiamo continuato una relazione di amici con benefici quando lui tornava in città, fino a quando si è sposato. Sono accadute alcune cose e non siamo più amici. E mi rende triste perché ci indendevamo così bene come amici, a parte il fatto che ogni tanto ci davamo da fare. Ma non ho nessun rimpianto. Storie 6. Ho avuto un rapporto sessuale con una ragazza sul campus universitario durante una partita di football del liceo. Abbiamo camminato per circa 15 minuti fuori dal campus, prima di trovare un posto. Abbiamo continuato per circa 15 minuti, pensando che la partita fosse quasi finita. Ma alla fine mi sono ritrovato con una grande delusione sessuale. Ero all'oscuro del fatto che qualcuno ci stesse seguendo e filmando. Questa persona ha diffuso il video in tutta la scuola. Tutti i ragazzi mi hanno elogiato per quello che avevo fatto e tutte le ragazze erano dalla mia parte. La ragazza coinvolta è stata espulsa. È stato piuttosto imbarazzante perché ha inviato il video anche alla mia famiglia. Quindi va a f***lo Kaila. Storia 7 Ho incontrato una persona simpatica che voleva andare a letto con me. Era dolce, carina, coccolosa e felice. Ci siamo frequentati per circa un anno. Poi sono successe delle cose e non ci siamo più visti. Ma poco dopo siamo tornati amici. Sono passati più di 25 anni e ancora occasionalmente abbiamo lunghe conversazioni telefoniche sincere. Forse una o due volte l'anno. Qualche anno fa ci siamo incontrati a una riunione e ci siamo bagiati appassionatamente. Poi siamo tornati alle nostre vite normali. Mi dispiace non vederlo così spesso. Ma ognuno di noi ormai ha le proprie vite. Storia 8 Ero amico di una ragazza fin dalle scuole medie. Durante il nostro primo anno di liceo lei era fuori per una notte con le amiche e mi ha chiamato alle due del mattino chiedendomi se potevo procurarle della birra. Avevo una scatola nel frigo della mia stanza. Stavo vivendo con mia zia e mio zio e non gli importava molto se bevevo. Quindi sono andato a casa delle nostre amiche. Erano circa sei ragazze che stavano facendo una piccola festa. I suoi genitori erano assenti quindi mi hanno fatto parcheggiare a un isolato di distanza perché c'era il divieto per i ragazzi di entrare in casa. Sono entrato di nascosto e tutte mi hanno ringraziato. Naturalmente il tema del momento intimo è venuto fuori e io e Kate abbiamo ammesso entrambi di non averlo mai fatto. Il comitato ha deciso che dovevamo farlo. Eravamo entrambi d'accordo quindi che diavolo, facciamolo. Quindi sì, la mia prima volta è stata in pubblico. Sono ancora amico di Kate. Esco spesso con lei e sua moglie. Se ti è piaciuto questo video ti invito a lasciare un like e iscriverti al canale per non perderti i prossimi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un bacio. A presto. A presto.